abc sono triste che ti succede omic non griffi più da una vita e non vedo più video di griffin tuoi da un pezzo basta col stammer da random pensa alle tue visualizzati ok ho capito mi hai appena fatto tornare in mente che ho una rifata fatta tre ore fa che sta marcendo nel nord risco solo per farti felice vedrò di farti tornare in mente questi bei ricordi maledizione come fatto tutti i ragazzi qui è buttafuori e qua con me c'è ci siamo tutti buttafuori gli italian slackers io o mica anche altri griffer del forum l'elenco completo dei partecipanti alla griffata l'ho trovato in descrizione abc sei incazzato con noi vero di la verità a te non te ne fotte una sega delle vives e ti sei arrabbiato quando io ti ho detto su sky che voglio vedere una delle tue griffate e non la recensione del tuo ultimo giochino da quattro soldi avanti ammettilo sei un malpensante omic ti ho anche accontentato montando questo video cosa vuoi di più dalla vita un lucano ovvio che voglio un amaro lucchino voglio che anche tu come il mio di oriuk 43 16 ti metta a nerdare su minecraft e non a giocare a quella merda o lavorare per campare e comprare quella merda su steam non ti sembra di esagerare omic il vero giocare da pro come dice il dio zebo 89 e ammazzare la gente negli fps arena oppure aggiungo io negli fps rogue laic altro che quello schifo di minecraft nessun obiettivo a parte costruire nerdare sotto terra e distruggere abc spero che tu stia scherzando ti sei fatto conoscere su youtube grazie a minecraft hai avuto i tuoi 500 iscritti grazie alle tecniche anti book it fatte su minecraft non puoi abbandonare minecraft anche se forse solo la metà dei tuoi iscritti guarda i tuoi video di griffing che tra l'altro sono i più seguiti sul tuo canale non puoi abbandonare ma in comic fammi spiegare non puoi abbandonare ma in clan ok torniamo al video questa griffata è stata fatta su un server creative senza protezioni e con la domina online se non siete nuovissimi su youtube l'avrete già vista un po di rfa tipo verso pasqua in un video di buttafuori dove anche io avevo recitato in alcune parti e dove ovviamente avevo anche fatto la mia parte nella griffata che con un po di ritardo mostrerò oggi ok ma se sei incazzato solo con me perché hai messo nell'introduzione di questo video i nostri avatar in una cella fussigati a sangue e buttafuori dietro le sbarre in compagnia di un costruttore vestito con un costume di carnevale che vuole fargli assaggiare il suo non meglio precisato tridente madonna omic 6 di memoria corta quello spezzone è preso dal video di questa griffata fatto da buttafuori quello che vedi con quella skin è domini di questo server che vi aveva imprigionati tutti dopo aver griffato imprigionati tutti aspetta ora ricordo che video era ma tu nelle celle non ci sei sei sicuro di aver griffato quella volta o mi stai mentendo queste riprese secondo te come le avevo fatte non solo avevo griffato assieme a voi ma a differenza vostra ero riuscito a non farmi bannare e sono pure venuto a liberarvi dalle grinzie di quella domine che si faceva chiamare poseidone non ricordi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Sì finalmente libero Libero E ora cosa c'è qua L'armeria Sai cosa farò adesso No Faccio scoppiare tutto mi sembra evidente Vai scoppia giù scappiamo Via 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 Il video originale di butta fuori In alta qualità da cui ho preso Questi spezzoni lo trovate pure In descrizione Abc scusami Ho interpretato male l'introduzione Di questo video Ma c'è una cosa che ancora non ho capito Tu sei l'unico che è riuscito a non Farsi bannare Giusto? Come hai fatto? A noi ci ha beccati tutti Nonostante che avevamo le pozioni Dell'invisibilità Oh mic mi sorprendi La tecnica che ho utilizzato tutto il tempo È quella che hai visto già negli ultimi 5 minuti Quale? Il flood di blocchi? Non mi sembra così distruttiva Eri in un server creative con le hack funzionanti Perché non le hai usate come tutti? Oh mic mi deludi Non è distruttivo questo flood Guardalo bene Credi che possa fare meno danni del nuker che avete usato voi? È proprio a causa dell'anti-cheat Che vi sconnetteva in continuazione Che probabilmente la domain si è accorto di voi Invece il flood di blocchi Come ben sai È silenzioso e letale Specie se fatto dentro gli edifici Ma che dici? Questo è un server creative Tutti i blocchi Anche i più resistenti Si spaccano con un colpo E poi sai benissimo che tanto con world edit un admin Può levare facilmente blocchi diversi da quelli di cui è fatta la costruzione Oh cazzo Ora ho capito Oh questi hanno un backup o sono fottuti Se avessi usato roba più classica come lava, acqua o mattoni Potevano levare tutto facilmente Ma nel tuo caso invece È già Se proveranno a usare world edit per levare tutta questa merda Potranno pure dire addio alle loro case Ah, la cattiva notizia è che non ho visto finora in chat neanche un avviso di backup programmato Ho come l'impressione che Poseidone maledirà il giorno in cui siamo arrivati in questo server Ma prima dovrà accorgersi dei flood dentro le case che non sono visibili dall'esterno ABC Davvero non ho parole? Questo piano è di una perfiglia assoluta Peccato non aver potuto vedere la loro reazione Oh mic non disperare Spero di averti fatto tornare il sorriso con questo video Come io mi sono divertito a montarlo come Non facevo da un sacco di tempo Giusto per evitare equivoci La discussione che ho fatto in questo video con Loquendo fra me e Domic È inventata di sana pianta Chiedo scusa a Domic Se forse ho usato impunimente la sua voce Ma volevo fare con questo video anche una critica a chi su YouTube Punta solo alle visualizzazioni O segue uno youtuber in ogni cazzata che dice Ragazzi Abbiate sempre una vostra testa Usatela e fate i video che più vi aggradano Senza seguire mode Persone di cui in realtà non sapete nulla O una fictizia fama dal valore di pochi spiccioli che tanto non raggiungerete mai Per quel che mi riguarda Il tra virgolette vivere con la partnership di YouTube Ha rovinato questo sito Rendendo i video tutti uguali Modaioli o peggio di insulti nella community Non solo di Griffers Chiedo quindi scusa se non ho fatto molte griffate recentemente Ma non avevo né il tempo necessario Che è molto maggiore di quello degli altri video Né l'ispirazione adatta La seconda delle due cose Se non altro credo di averla ritrovata Montando questo video la voglia di griffare mi sta tornando Il prossimo video però Non me ne vogliate male Sarà un random gameplay con un gioco molto figo uscito da poco Abici Predator Salve Admin come va? Abici Predator tu hai griffato Pure il tuono è incazzato Aspetta fammi spiegare Hai per caso visto un video di un certo buttafuori 99 ultimamente? Il vostro server laga a bestia Cavoli fatevi almeno riprendere come si deve Mentre vi piglio per il culo Se c'è il lag perché state usando boardedita la cazzo Vi informo che è totalmente inutile Prima riconnessione Rispondi alla domanda Abici Predator Dai che ce la faccio prima della prossima lagata Ce l'ho fatta Abici Predator perché hai griffato? Facciamo un patto Se vuoi farmi il terzo grado La smetti di far lagare il server Così io posso risponderti come si deve E il pubblico divertirsi di più Sei d'accordo? No, vero? Bannato Non puoi manipolare la verità Forse l'ho fatto incazzare un po' troppo Comunque dopo questo bah sono rotolato giù dalla sedia Sono queste le scene che ti fanno venire voglia di griffare E conto, se riesco, di tornare a praticare questa nobile arte il prima possibile Arrivederci alla prossima Grazie a tutti